Ma questo è che è truccato, se non ce la faccio io nessuno lo potrebbe. Giusto, mio padre lo tenderebbe di sicuro. No, non credo. Principi, col vostro permesso ci proverei io. Tu, ma che dici, mezzo? Non ce l'abbiamo fatta noi che siamo giovani e forti? E ci dovreste riuscire tu che sei solo un povero per i codi. Semplice, perché io sono Ulisse e questo è il mio arco. Ma le leggi la pagherete tutti. Aiuto, aiuto. Padrone, quello che si doveva fare è stato fatto. Guarda, la tua casa è libera. Madre, corri, il mio padre è tornato. Che stupo. Madonna, se non sa che c'è stupo. Vuoi iniziare veramente tu? Sì, mia penerope. Vabbè, ma adesso siamo tutti insieme. Proprio come una vera famiglia. Grazie. 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 Grazie.